Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Battle for Zendika. Ci ritroviamo di nuovo a cercare di sconfiggere questi idioti perché è una cosa idio... cioè nel senso... beh... non fatemi troppo parlare perché mi hanno appena sconfitto di nuovo quindi voi vi vedrete una partita successiva dopo che io ho già provato a sconfiggerli nuovamente e la partita è andata male perché pescavo solo pianure. Cioè lui pescava e giocava un sacco di creature e io continuavo ad avere pianure. Avevo più di 10 terre e mi venivano solo pianure. E non so cosa dire. Ma che poi tra l'altro nella campagna è una questione... cioè è collocata in modo idiota. Perché? Per quale stanno nel motivo io devo picchiarli di brutto per dirgli ehi venite con me dobbiamo salvare la città dall'invasione degli Eldrazi? Cioè... che senso ha? Stiamo dalla stessa parte e perché dobbiamo picchiarci violentemente proprio? E andiamo così a un cacciatore di gloria con cui posso canterare almeno la guardiana serena. Ma tanto lui adesso non lo attaccherà con la guardiana serena di sicuro. Lo scorso giro aveva troppe 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 creature rispetto a me. Era in una situazione di stravantaggio ma lui ha poi giocato 440 creature e è un'altra creatura che si gioca. Il fatto è che io non ho creature toste. Ho qualche creatura a convolare ma sono fragilissime nel senso che sono un 2-1 e un 2-2 e buonanotte. Questa qua è l'unica un pochettino più tancona. Salto. Cosa vuoi che faccia? Attaccami! Attaccami! Devo fargli perdere più carte possibili immaginabili perché sennò qua... è un gran putiferio. Allora... io andrei a giocare... no così questo lo gioco dopo così ha già il buff e gioco questo. Un po' di creature ce l'abbiamo per ora. Però... ecco vediamo un po' se salto. Fintato che non ho lui. Ah mi attacca con tutto. Ah e lui mi dice difendi solo con questo? Ma io il punitore corsa lo seccarei pure con il punitore corsa eh. Anzi io farei di meglio. Io lo userei per uccidere la pattuglia di Makindi. E il punitore core? Chi se ne frega. Nel senso sfruttiamo quei tre punti, quei tre danni che fa il punitore core. È fragile ma almeno mi permette di fare un po' di danni a quel tizio là. Allora... no Cribbi devo giocare prima questo idiota. Questa mi piace però. Perché se dessi un volare a quella è quella che mi mancava prima. Guarda che tanto non ha attacco improvviso quindi anche avendola giocato prima della terra era inutile il buff che prendeva. Avrei dovuto giocare al turno prima? Sì probabilmente. Non so perché ho pensato. Ah no giochiamo al turno dopo. Boh perché sono idiota probabilmente. Boh stu giro sono contento perché non mi stanno venendo troppe terre perché io non ho creature che costano una volta. Eh buonanotte. Sì questa è una... cioè no è proprio impossibile una roba del genere. Perché? È assurdo. Cioè un tank mostruoso così come glielo tiro giù. Questa tra l'altro è una stregoneria. Vuol dire che non posso usarla come istantaneo. Ah no più due più due è volare. Non so se usarla adesso. E mandare in là della gente con... qua 6 e 4... gli farei 10 danni e poi dopo me ne prenderei però 8 il giro dopo. Piuttosto che magari tenere due di queste. Sì andiamo così dai. vediamo un po'. E poi andare ad attaccare con tutto. È stato un peccato non poter giocare anche un aquila o un qualcosa da tenere in difensiva ma... poi me ne fa 8. E ho preso un vantaggio di 2 alla fin fine. Ohhhh... Questa ha un... quindi non ho preso nessun vantaggio. Perdo 10 punti pure io. E vado a 7. o mi esce un'altra carta così... o è andata. Eh gioco due aquile della guardia. Cosa posso dire? Una miseria fermo. Cosa cavolo... vuoi che succeda? Eh salto. Cosa posso fare? Ah mi dice di attaccare con tutte... Ah perchè lui non ce le ha quelle. Però 4, 2, 6. Cosa vuol dire? Se lui mi... Sì, 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 ci sta. Ci sta, ci sta. Lui può fermarmi solo con questo. E tra l'altro lui attacco improvviso, quindi... Do perde a gratis. Ottimo, mi piace questa cosa. E gli faccio due danni. Sì, non è male. Forse c'è ancora qualche speranza. Forse. Adesso lui mi attaccherà con tutti e due. Devo sacrificare un'aquila per il punitore core. E non si sacrificarne un'altra per... No. Ok, ho solo due punti vita. La situazione è molto critica. E allora vediamo un attimo. Lui però ha quella... Bloccata. Aia. Ah no, no, è finito però. Allora io non gioco un cribbio con questo turno di terre. Però se attaccassi con tutto dovrei... Potercela fare. Nel senso che lui una me ne blocca. Però al giro dopo sono morto. Se me ne blocca una al giro dopo sono morto. Allora queste due non può bloccarmele. Mi può bloccare solo questa. Che attacco improvviso quindi gliela uccide. Però al giro dopo lui ha questa con cui puoi attaccarmi. E quindi devo sacrificare il punitore core. No. Ci sta. Ah, lei ha anche cautela. Ottima storia. Me l'avevo dimenticata della cautela. Ok, mi blocca lui perché è costretta. Però lui ha attacco improvviso quindi... Lei ci muore. Ok. Gli infaccio quattro danni e siamo pari. E adesso dovrò sacrificare qualcosa per la damatrice Tyro. Oppure tutti e due. Oppure ucciderli tutti e due per bloccarla. E io proverei appunto a bloccare con tutti e due. Per cercare di toglierla di mezzo. Se riesco a toglierla di mezzo siamo... Sì. Siamo a cavallo ragazzi. Proprio al limite ma... Tattiche di coppie. A fine due creatori bersagli prendono più uno e più due fino alla fine del turno. Guadagni due punti vita. Sì. Sì. Attacca con tutto e chiudiamo così. Alleluia. 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 Combattendo con onore guadagni la fiducia degli abitanti di Zendikar. Soprattutto di Chiora. Un potente planeswalker tritone. Con il suo aiuto l'adunione esercito lo conduce a portale marino. Dopo esserti riunito a Nissa sei pronto alla battaglia. A presto. Anche se.... A presto non. Adem provocando La suaestaburtre leptaggio a prigire di Zendikareto. 川lo? Dovido. itascia. O.